Qualcuno immaginava che i corpi intermedi fossero addirittura sorpassati, io invece reputo che il rapporto ad esempio con Union Camera sia un rapporto vitale per l'economia del Veneto. Noi abbiamo un accordo quadro con Union Camera per tutta una serie di iniziative, ma al di là dell'accordo quadro che abbiamo con Union Camera, devo dire che il rapporto quasi quotidiano con Mario Pozza, con Crosta, con tutti i collaboratori è un elemento di grande forza. Un esempio per tutti, io ricordo quando durante la pandemia, il Covid, il lockdown, che eravamo di fronte a un nemico invisibile e pericolosissimo, noi ci siamo confrontati quotidianamente per cercare non solo di dare risposte immediate ai nostri imprenditori, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti, ma anche per poter interloquire in maniera efficace con il governo. Molti provvedimenti sono stati fatti o cambiati su nostre proposte e che avevano la forza della condivisione col territorio. Union Camera è un elemento preziosissimo per lo sviluppo del nostro Veneto e non è un caso che il Veneto abbia così tanti primati. Lì ha anche perché ci sono queste strutture intermedie che aiutano il progresso e lo sviluppo di questo territorio.